Dopo i recenti e straordinari fenomeni meteorologici che hanno interessato anche l'Abruzzo, con grandinate di inaudita potenza che hanno provocato ingenti danni e perfino feriti, torna ad attualità il problema relativo ai cambiamenti climatici e all'urgenza di un immediato cambio di rotta per evitare che il genere umano finisca sfrattato dal pianeta per colpa della scelleratezza dei propri comportamenti. Ne abbiamo parlato con Piero Di Carlo, docente di fisica dell'atmosfera presso l'Università d'Annunzio di Chieti. Questi sono eventi sempre più frequenti e saranno purtroppo anche sempre più devastanti. A questo punto è assolutamente inequivocabile tutto ciò ed è ora in qualche modo di intraprendere delle politiche che tengono conto di tutto ciò, sia dal punto di vista della prevenzione ma anche dell'adattamento e mitigazione. Tecnicamente, come avete visto, c'è stata prima una fase con una grandinata enorme dovuta ovviamente a aria molto umida sollevata a strati atmosferici superiori con incursione di aria freddissima, quindi aria al di sotto dello zero in grado di ghiacciare questo vapore acqueo e ovviamente poi per gravità queste palle di ghiaccio sono scese giù. A questo purtroppo è seguito un evento di pioggia intensa come se ne vedono sempre di più. Purtroppo questi eventi sono sempre più frequenti, abbiamo piogge sempre più intense, brevi e meno frequenti che è tutto ciò che il sistema Terra non vuole. La Terra vorrebbe delle belle piogge costanti ma allo stesso tempo non così violente. C'è chi sui social ha ironizzato un po' con fotomontaggi di Greta Thunberg, insomma il cambiamento climatico e tutto quello che ne consegue insomma ma diciamoci la verità è colpa nostra al di là della facile ironia che si può fare anche sui social. Ma è ovvio che è colpa nostra, cioè non capire tutto ciò è assurdo. Ormai è acclarato che emissioni da fossili creano un aumento pazzesco di CO2 come quello che stiamo registrando. Ciò porta a un aumento della temperatura, l'aumento di temperatura ovviamente che fa? Non fa altro che fornire più energia al sistema Terra che poi risponde in questo modo. Cioè negare tutto ciò ormai credo che è come negare che le sigarette fanno male.